Atteso da tempo, è ora una realtà. Inaugurato il nuovo centro sportivo Don Bosco dell'Istituto Salesiano di Macerata, un luogo storico, da anni punto di riferimento per la città e per tanti giovani. Presenti al taglio del nastro, numerose autorità, dal Vescovo della Diocesi di Macerata, Monsignor Gilodori, al Sindaco Carancini, il Presidente della Provincia Pettinari, insieme a rappresentanti delle Forze dell'Ordine. Un progetto che rafforza la missione dell'Istituto Salesiano di Macerata, una missione educativa per i giovani ereditata da Don Bosco. Oggi qual è, secondo lei, il messaggio sempre più attuale di Don Bosco e dei Salesiani? Credere nell'educazione, perché è sull'unica strada, quindi educazione, cultura, evangelizzazione, accoglienza, crescere insieme. Questo credo che sia il segreto ancora oggi valido, poi il discorso che con queste caratteristiche dell'opera salesiana Don Bosco pensava a tutta la persona a 360 gradi, quindi non solo sport, non solo cosa di specialistico, ma a tutte le esigenze della persona. Questa fosse la condizione per far ritrovare ai ragazzi la concentrazione sull'io totale, sulla persona totale, e quindi poi anche procedere per una crescita della persona stessa. I lavori di costruzione che comprendono sia il nuovo complesso sportivo, sia l'attività commerciale già inaugurata da tempo, sono iniziati a giugno del 2009 e sono stati completati in tempi record. In più l'intervento riguardato il campo di calcio, che prima era in terra battuta, oggi è stato completamente ristrutturato con manto sintetico, una nuova recinzione, nuovo impianto di illuminazione. L'oratorio, che è il cuore di tutto quanto l'intervento, è stato completamente ristrutturato. In più, collegato a tutto questo, una grande palestra di 750 metri quadrati, che non solo sarà destinata all'istituto come scolastica, ma che può essere anche a servizio della cittadinanza.